Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Signore Gesù Cristo, che al tuo fedele servo Bernardino da Siena concedesti la gloria del tuo nome, e la grazia di una tenera ma robusta devozione alla madre tua, per sua intercessione concedi a noi di portare sempre il tuo nome inciso nel cuore. Di mostrare con la vita che tu sei il Salvatore. Di costruire con il fratelli un tempo nuovo fatto non di pietre ma di anime ardenti e cuori anelanti. Fa che ricomponiamo le discordie del nostro tempo come Bernardino ricompose quelle del suo. Che realizziamo una comunità ogni giorno nuova. Che non abbiamo paura delle difficoltà e delle ostilità perché abbiamo fiducia che dall'umiliazione, e dalla sofferenza rinasce la gioia di una speranza nuova. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli. Si è santificato il tuo nome. Venga il tuo regno. Si è fatta la tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.